Musica Mamma mia, devo diventare fortissimo Ok, ciao a tutti Roblox giocatori Qua è bella faccia E come state? Come potete vedere sono magrissimo E non ho nemmeno un muscolo Ma oggi ci troviamo nell'incredibile mondo di Strong Strongman smash Proprio così ragazzi Strongman 2 Yes, e oggi dobbiamo diventare super forti Perché come ormai sapete Dobbiamo portare tutte Ok, queste cose qua Ok Le posizioniamo qui E le dobbiamo rompere Ragazzi Proprio così Quindi lasciate un super mi piace Perché questa potrebbe diventare una serie Incredibile Perché ci sono anche le papere C'è anche schibili di toilet Proprio così Allora Vediamo un pochettino Ci sono anche i codici Ricordiamo eh Allora Quindi Alleniamoci No, mi devo allenare Mi devo allenare Sì, continuiamo così Allora abbiamo 28 di forza Wow Non esageriamo I topi addirittura sono più potenti di me Aspettate Ho messo su un pochettino il bicipite mi sembra Allora sono un knob assoluto Ok Roblox Le offese però anche meno eh Sono un knob assoluto ragazzi Allora Proviamo a rompere i mattoni Possiamo provare a prendere i mattoni Vediamo un po' Posso prenderli tutti addirittura No vabbè Posso prenderli tutti raga Piliamo tutti i mattoni Ok Guardate che roba Porti i mattoni Mettiamoli qua S-Gah Ui Alli S- ride Ta-ta-ta-ta-ta-ta Gia Sì Abbiamo avuto anche un bonus Ok Velocità Abbiamo velocità per Wow 15 secondi Non esagerare Roblox Ok È arrivato il momento Di mettere un codicino Vai Vediamo Che Potenza 10 minuti Così sì che si ragiona Allora prendiamo tutti questi legni Perché devo riuscire a romperli tutti Ok prendiamo anche i mattoni No vabbè posso prendere raga Non si creda tutte le cose insieme Ok mettiamole qua e rompiamo Se clicco vado più veloce Si colpo critico E' troppo divertente sto giochino Ok ciò Ok quanto so Ok fantastico Allora direi che adesso ci alleniamo Sì vabbè ma non ho forza per niente Direi di mettere altri codici Smash 2005 Vediamo Doppia forza E un altro codice Smash 5000 Mamma mia adesso si che si ragiona Pigliamo tutto Ok prendiamo tutte queste lastre Di aczaio Prendiamo altri mattoni Prendiamo anche tutti questi Ok fantastico raga Mettiamoli qua E rompiamo Dovrei andare molto più velocemente Adesso con tutti i bonus Che mi ha dato lo shop Si Un zettone bang Mamma mia Ci metto un sacco Non per queste lastre raga Si metto veramente tantissimo Ok che è sto coso L'abbiamo preso Ok bang Colpo critico Abbiamo il colpo critico raga Continuiamo a prendere sti cosi Allora Continuiamo a prendere sti cosi Dai Dai che abbiamo il colpo critico Abbiamo il colpo critico Si Mamma mia Sono troppo duri sti cosi Sono troppo duri Offerta tempo limitato No vabbè raga Se questi video vi piaceranno Shoppiamo anche Alleniamoci Alleniamoci forza Sentite il mio personaggio Mamma mia Fa una fatica incredibile Questo nanerottolo Allora vediamo Proviamo a rompere questo Vediamo Che è sto coso Un televisore Un tostapane Questo è il forno a microonde Raga vediamo Orna a microonde Distrutto Ok proviamo i gabinetti Di schibili di toilet I gabinetti di schibili di toilet Vediamo Mamma mia Gli ho rotti subito Le papere Non posso prenderle Non posso prenderle Sono troppo pesanti Le papere raga Sono troppo pesanti Prendiamo un po' di mattoni Un po' di questi Se questo gioco È assurdo Perché secondo me Ci sono tantissimi altri livelli Oh Che è sto coso Preso Se guardate Di là ci andiamo Con 50 di forza E vedo delle persone lì Che stanno combattendo Ma è bellissimo Pippi Fatemi passare Devo rompere Devo rompere tutto Abbiamo 50 di forza Ok gabinetti Proprio distrutti Quindi Andiamo ad allenarci Ma io scivolo qua sopra Ok raga Possiamo andare quasi di là Possiamo andare di là Possiamo Ok tutta la forza È andata Quindi vediamo Sembra che tu possa andare avanti Rompi il cancello Certo che rompo Spacca Mamma mia L'ho disintegrato Raga Guardate Sì Compagno Congratulazioni Hai ricevuto un compagno Il tuo compagno Può essere equipaggiato Con diversi accessori Che aiuteranno A potenziare il tuo personaggio Yes Ok Guardate È un nanerottolo, un nano, raga Allora, vediamo Vediamo qua, posso poter Uh, energia, per altri compagni Raga, ma quanti granchi stanno prendendo Questi, oh mio Dio Ma mi prendete in giro, ma li stanno mettendo Tutti lassù, ok Mi sa che non ho capito bene come si gioca, eh Ok, prendo i granchi anch'io E pigliamo i granchi, li metto qua sopra Posiziona È già occupato Ma posso andare qua? Ah, no, non posso romperli Ah, granchietto Beccati questo, fantastico Mi danno veramente tanto, ok, questi non posso Le bici, raga Posso prendere solo una bici, sei assurdo Ma ci metto una vita Mamma mia, ah, se ha la bici Rompiamo questa bici, ok Abbiamo un sacco, ma veramente Tantissimo di power Quindi, oh, un uomo Sì Un mantello Raga, abbiamo un mantello Vediamo, accessori Più uno di forza Ottimo Addirittura anche i guantoni Si possono sbloccare Ma dov'è il mantello? Ah, il mantello Al mio amico Il mio amico ha il mantello No, vabbè, dai Allora, farei una cosa Ci alleniamo Forza, forza Allenati E vado a prendere Le papere Che prima non potevo prenderle Giustamente Vediamo adesso C'è raga, non mi fa prendere Sì, ah, da qui Ok, ho preso le papere Ho preso le papere Ok Le ho prese Posiziona Roppi Roppi le papere Ok Top raga Top Raccogli 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 Devo diventare fortissimo Devo diventare il più forte di questo mondo Se guardate quante cose che sto trasportando ragazzi Incredibile Eeeh Mossa finale Con la testa Rompiamo tutto con la testa Bella pazza Vai Pam Pam Yes Continuiamo ad allenarsi E diventare sempre più forti Allora Comunque lì Ho visto adesso Che danno Le papere 30 Ok raga Dobbiamo prendere le papere Dobbiamo assolutamente prendere le papere Perché danno più energia Le papere Posso prendere un microonde Ok abbiamo tutto Roppi 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 Bella pazza Tre papere E tre lastre di metallo Ok Ok tantissimo Ne ho veramente Veramente tanti Alleniamoci forza Nanerottolo nabbo Ok sono un chad Sono un chad medio Non sono ancora un giga chad Sono un chad medio Ok non male Infatti un po' di muscoli sono venuti fuori Dall'ultima volta Ok Basta È arrivato il momento Di andare nella zona 1 Mamma mia Ma che succede qua Raga ma qua Sono pazzi Sono fuori di testa Raccogliamo Raccogliamo i granchi Raccogli Raccogli i granchi Li prendo Li prendo Mamma mia Questi sono fuori di testa Cioè questi raga sono pazzi Sono fuori di testa Se guardate Guardate che torre Ma manco si riesce a vedere Se non si riesce nemmeno a vedere la fine Se sono dei pazzi Cioè guardate fin dove arriva la sua torre Mamma mia Mamma mia Forza Forza granchi Forza Vediamo un po' Quanto ci dà È veramente tanto Ci dà veramente tanto qua Quindi ci conviene prendere più granchi possibili Quando si dice ho preso un granchio Questa volta è una buona cosa Allora però le bici danno molto di più Se quasi conviene prendere le bici Conviene prendere le bici Vediamo Rompi Mamma mia le bici Le bici sono veramente toste da rompere Però abbiamo già 500 Io quasi quasi fare Che è sto coso No non volevo questo Non volevo quello Però vabbè mi dà 60 Va bene Va bene così eh Allora dopo facciamo Un potenziamento Al nostro nanerottolo Ok quindi Vediamo un pochettino Possiamo prenderlo 300 di energia Vediamo No ma si deve comprare Cioè 300 di energia si deve comprare Vediamo No un altro Mantello dai Cioè mi prendi in giro Si può vendere Non si può nemmeno vendere ragazzi Allora vediamo Qualcos'altro Le ali Uno zaino ali Ok quindi Mettiamolo Ah ma più 2 Basta Adesso c'ha le ali No nanerottolo Non hai messo le ali Equipaggia Le ali al nanerottolo Sì il mio angelo custode Ok continuiamo a prendere Questi granchi ragazzi eh Vediamo di là 200 di forza eh Non manca tantissimo Guardate quanti granchi Quanti granchi Che ho vai Rompi 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 bella pazza Rompi Pam 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 Rompi rompi tutto Ah ma ci sono le missioni Che cosa Le missioni Devo rompere le bici Ma allora anche qua Cerano le missioni Forse Eh no Mi sa che ho visto male Qua non ci sono le missioni Ma c'è il guanto di Thanos Che costa 1500 robux Anche no eh Ok allora Le bici Devo rompere le bici Quindi prendiamole eh No Lasciamene un po' Lasciami un po' di bici Quante ne devo rompere raga Ancora 50 Ma sono tantissime Dopo ci sono i sottomarini La devo rompere Ma mi prendi in giro Ok alleniamoci Cioè sentite che versi Che fa il personaggio Fa troppo ridere Sono un uomo forte Adesso sono un uomo forte Mega uomo forte Uomo assoluto Taglia bebe Ma che vuol dire taglia bebe Sono un taglia bebe ragazzi Un taglia bebe Non fatemi arrabbiare Sono quasi diventato bella fazza eh Ok quindi abbiamo il 5% di critico Se completiamo le missioni Sono una taglierina Una taglierina sono diventato Sono tagliaforti Sì tagliaforti mi chiamavano Ti trita tutto veloce Sì sono un trita tutto Trita carne Mi chiamavano trita carne Allora proviamo a prendere le ancore Ok posso prendere No non posso prendere ancora il sottomarino Le bombe Ok Prendiamo le bisi Che tanto abbiamo completato la missione E salta e rompi Salta e rompi Salta e rompi Salta e rompi Ossia Ok fantastico Stiamo per completare la missione Mamma mia Quello fin dove ha fatto la torre Ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto Fatemi sapere se volete il secondo incredibile episodio Io adesso sollevo un sottomarino E vi faccio vedere che lo distruggo Lo spiezzo in due Yes Se volete vedere che divento ancora più forte Mi raccomando lasciate un mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao